Noi ci poniamo una domanda, il PD lavora per la Val Pescara per la bonifica o lavora per la Edison? Il Partito Democratico sta tutelando gli interessi di Edison. Questa è la risposta di Rifondazione Comunista alla conferenza stampa di ieri in cui Antonio Blasioli, ex presidente della Commissione d'inchiesta regionale, tornava ad attaccare la gara d'appalto vinta dalla ditta belga Decdeme. La gara, già giudicata legittima da Tarre e Consiglio di Stato, riguarda la bonifica delle discariche 2A e 2B di bussi sul Tirino, rispettivamente di 12.000 e 8.000 metri quadri. I lavori, secondo il cronoprogramma del Ministero, partiranno il 1 agosto 2022 e una volta terminati saranno risarciti completamente da Edison, che secondo la Cassazione è definitivamente il soggetto responsabile dell'inquinamento. Il PD però chiede che sia la multinazionale francese a presentare un nuovo progetto. Siamo riusciti nel 2018 a far approvare il progetto, metterlo a gara. C'è stata un'aggiudicazione definitiva della gara alla ditta Decdeme. Improvvisamente il Ministero ha deciso di annullare la gara. Si sono schierati conto il Ministero, il Comune, la Regione, l'Arta, i movimenti. Si è schierato a favore del Ministero il PD. Il risultato è che per tre anni si è bloccato l'Iter. Oggi finalmente, dopo le diverse tendenze del Tarre, del Consiglio di Stato e della Cassazione, si è chiarito che la gara era valida. Se si fosse iniziato il percorso a maggio del 2018, a quest'ora avremmo i terreni già puliti, invece oggi riparte tutto. Un nuovo progetto, sostiene Rifondazione, farebbe guadagnare tempo a Edison. Ed era questa forse l'intenzione del Ministero quando ha misteriosamente tentato di annullare la gara d'appalto. Intanto sono passati 14 anni dalla scoperta delle discariche. Entro fine mese partirà la bonifica ad opera di Edison, ma solo per l'area Tremonti. Quello che accade è che c'è qualcuno che ci sembra voglia tutelare gli interessi della Edison. La Edison deve pagare la bonifica, perché chi inquina paga. Ora, noi vogliamo la bonifica integrale. Invece cosa è accaduto? Quando il progetto era arrivato alla conclusione, ci doveva partire, il governo con un sottosegretario PD e un ministro 5 stelle, probabilmente mal consigliati da dirigenti al Ministero dell'Ambiente, hanno annullato tutto, ci hanno fatto perdere anni. Adesso sono stati sconfitti dalla giustizia amministrativa. Si può partire? Che cosa accade? Che il PD fa la conferenza stampa per fare il sindacato dell'Aedison.